Io sono favorevole all'innalzamento del limite, anche perché il problema dell'Italia è che i grandi evasori sfuggono comunque, quindi non è il fatto che alzino un attimo di più, poi non lo faranno a 10.000, penso che lo faranno a meno. Dici che è un falso problema qui. Sì, ci sono molti altri problemi, molto più gravi. Il limite a 3.000 come era prima, per me poteva anche essere sufficiente, non era necessario alzarlo a 10.000 o innalzarlo, ecco, la proposta che vogliono. Abbassarlo ulteriormente a 1.000? Abbassarlo non è quello il problema, secondo me, né per l'evasione fiscale, né per l'evasione fiscale, non è questo il problema principale del paese, ne sono molti altri più importanti, penso di risolvere il primo. Non dico i 10.000, però 3-4.000 euro di contante, sì. Perché dice? Perché non credo che limitando il discorso del contante si limiti il discorso dell'evasione. si deve lavorare a monte. Io sono favorevole per alzarlo. Quindi diciamo a che... Si incrementi un po' il lavoro, perché qui stiamo... A quanto lo alzerete? Da 5 a 10.000 euro lo porterei. Si può continuare a pagare in contanti. Tanto in contanti non cambia niente, se uno vuole evadere, evade lo stesso, deve lo Stato provvedere che uno non ne vada. L'utilizzo dei contanti, vediamo tutti, sta andando sempre meno, abbiamo in tasca 10-20 euro e paghiamo il più possibile col POS. Aiutiamo l'esercente a accettare più volentieri il POS, che ne consegue lo scontrino, tutto quello che ci va dietro e forse riusciamo a combattere meglio questa cosa dell'evasione. Insomma.